In questo fine legislatura per la regione Abruzzo, ennesimo presidio di protesta davanti alla sede del Consiglio regionale all'Aquila. Oggi è il turno di Coldiretti e Confagricoltura che sono tornati a chiedere l'intervento della regione per trovare una soluzione per gli ingenti danni sia ai coltivatori che agli allevatori provocati dagli squilibri della fauna selvatica sul territorio abruzzese. Sotto accusa i cinghiali ma non solo. I cinghiali sono un grosso problema specialmente nel periodo primaverile estivo ma il problema riguarda tutta la fauna selvatica secondo le zone. Un altro grosso problema sono le riserve che sono confinante con le zone agricole e sono diventate dei luoghi di ristoro, di albergo degli animali selvatici. Aspettano che i nostri coltivatori coltivano i propri campi, questi animali escono dalle riserve, vanno a saccheggiare le aziende e poi ritornano nelle riserve. Allora bisogna fare un controllo delle riserve, un censimento degli animali presenti nelle riserve perché le riserve devono servire a tutelare un equilibrio di questi animali e non essere un luogo di albergo di questi animali, cosa che attualmente sta diventando. Specialmente in provincia di Teramo, in prossimità di Teramo, nella Val Vomano noi abbiamo degli associati che ogni giorno vengono in ufficio a lamentare questo problema. Ci sono delle riserve che servono semplicemente a far stanziare questi animali selvatici che adesso da aprile in poi vanno a saccheggiare le aziende dei nostri associati. Questo non è più tollerabile. I danni sono altissimi. Le dico ancora una cosa che non dovrei dire però lo dico con molta chiarezza. Molti danni non vengono anche denunciati perché i nostri elevatori, i nostri produttori sono talmente scoraggiati da questo sistema che non funziona che non li vanno neanche a denunciare per non perdere tempo e per non andare dietro una burocrazia che impiega tre anni, due anni per compensare il 10-20% di una minima parte. Quindi il dato che viene diffuso non è un dato veritiera perché è assolutamente più importante, assolutamente più importante e assolutamente più grave. Che come ripeto, tanti nostri elevatori sono scoraggiati da questo modo di gestire il problema che non denunciano più neanche il danno perché non sono ascoltati.